Manca poco meno di un mese all'inizio dell'anno scolastico 2024-2025. A partire dai primi giorni di settembre torneranno nelle aule alunni e docenti della provincia di Lecce anche alla luce degli accorpamenti e delle riduzioni delle dirigenze stabilite dalla legge di bilancio 2023 che ha modificato l'assetto degli istituti anche nella provincia salentina. In particolare per quest'anno tra le 58 istituzioni scolastiche per le quali è stata disposta la chiusura ci sono anche quelle di Galatina e Nardò. Nel primo comune gli attuali tre istituti diventeranno due con l'accorpamento dei plessi di Collemeto. A Nardò invece è stata confermata la fusione nel Polo 1 con una parte degli alunni dell'istituto comprensivo Ingusci mentre il resto sarebbe incorporato al Renata Fonte. Una diminuzione quindi degli accorpamenti rispetto a quelli preventivati mesi fa dal ministero quando i dati parlavano di una perdita di 10 autonomie scolastiche in diversi comuni della provincia di Lecce. Tre infine sono gli istituti che dovranno dividere il preside e il direttore dei servizi amministrativi con altre scuole per vari motivi. Si tratta dell'istituto comprensivo Italo Calvino di Alliste e le scuole del primo ciclo di Andrano. Cursi e Taurisano